eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty video che anticipa la live di questa sera vi ricordo ore 18 e 30 ragazzi voglio tutti sintonizzati sul mio canale youtube fate spargere il più possibile la voce perché dobbiamo essere tantissimi questa sera alla presentazione di black ops 4 trovate già la live impostata sul mio canale youtube passatela subito a visitare così lasciate un bel mi piace per supportarla ore 18 e 30 qui sul mio canale youtube vediamo un po che cosa è successo in queste ore il profilo twitter di call of duty ha pubblicato due nuovi trailer li stiamo vedendo nel primo sembrerebbe esserci qualcosa nuovamente legato alla modalità zombies perché sembra esserci un qualcosa di alchemico qualche lavorazione in laboratorio infatti se vedete bene questo trailer sembrerebbe che ci sia una sorta di bastoncino di stecca che gira all'interno di un contenitore e poco più a destra sembrerebbe esserci una bottiglia quindi stanno lavorando qualche composto stanno facendo qualche lavorazione particolare di qualche liquido staremo a vedere cosa riguarderà la modalità zombies poi più tardi il profilo sempre twitter di call of duty ha pubblicato un nuovo trailer dove si vede un aereo volare del traffico e ovviamente il logo di black ops 4 che prende forma su un garage questo mi farebbe pensare molto all'ambientazione del gioco qualcosa come si è detto nei giorni passati e nelle settimane passate di moderno non di futuristico infatti sembrano le macchine che camminano sull'autostrada il classico elicottero che vola nei cieli quindi qualcosa veramente dei giorni nostri staremo a vedere sempre questa sera concludiamo il video informativo con la bomba arrivata in questi minuti vi posso dare proprio in anteprima il box art ufficiale di black ops 4 eccolo qui ragazzi con tre personaggi lo stiamo vedendo in tutta la sua bellezza finalmente è apparso come materiale pubblicitario e praticamente c'è un soldato in primo piano una donna sulla destra e un altro soldato uomo sulla sinistra tutti e tre sembrerebbero con tre armi diverse quello sulla sinistra sembra avere addirittura un silenziatore la ragazza sulla destra sembra avere un particolare mirino sull'arma da questa immagine mi sembrerebbe andare a confermare un'ambientazione tipo black ops 3 perché mi sembrano proprio specialisti però staremo a vedere se questa cosa sarà piedi a terra o meno perché i perk confermavano quelli svelati appunto da call of duty che abbiamo visto nei giorni passati un gioco piedi a terra però questi specialisti mi sembrano avere molta attrezzatura moderna molti equipaggiamenti sulle spalle e sulle gambe che qualche dubbio mi fanno venire scopriremo tutto questa sera qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate 500 mi piace per il nuovo tg informativo dove domani mattina analizzeremo tutto quello che succederà nel live delle 18 e 30 e vi aspetto numerosi più tardi qui sul mio canale per la presentazione di call of duty black ops 4 e noi ci vediamo con tanti nuovi video andiamo con tanti nuovi video Grazie a tutti